per alcune persone in particolare per i narcisisti e i manipolatori sedurre come un gioco la loro idea che si accompagna all'immagine della seduzione è quella della conquista di un'altra persona cioè di una vera e propria battaglia che queste persone intraprendono per riuscire a convoiare i sentimenti delle persone coinvolte verso di loro per il manipolatore affettivo sedurre significa riuscire a trasportare un'altra persona all'interno del suo universo psicologico attraendola con l'impeto di un'energia emotiva alla quale non potrà opporre alcuna resistenza è come un gioco nel quale l'esercizio della fascinazione deve tener conto delle caratteristiche psicologiche della vittima e quindi della sua storia emotiva che il manipolatore indaga e utilizza per i suoi scopi ora descrivere le caratteristiche di un manipolatore affettivo è un compito complesso anche perché la seduzione è un mistero che si esprime mediante linguaggi ambigui impalpabili a volte si tratta di semplici accenni tra detto e non detto tuttavia alcune caratteristiche del seduttore manipolativo sono ormai ben note il seduttore è una persona sfuggente inafferrabile eppure la vittima non può fare a meno di seguirlo e di lasciarsi trascinare nel suo mondo il sedotto è pervaso da emozioni alle quali non può sottrarsi perciò diventa vittima di un incantesimo un incantesimo che si attua attraverso canali multipli perciò può bastare uno sguardo un gesto o una parola in quanto le dinamiche seduttive del manipolatore sono infallibili perché riescono a suscitare i desideri della vittima senza mai appagarli totalmente questo accade in quanto la seduzione manipolativa si nutre della verità psicologica della vittima perché perché vengono chiamati in causa i più antichi desideri i più antichi bisogni della vittima e questi bisogni sono le cosiddette immagini fantasmatiche un termine tecnico immagini fantasmatiche che ognuno di noi si porta dentro fin dagli albori della propria esistenza perciò possiamo dire che il seduttore fa leva sui fantasmi della vittima sulle sue ombre sui suoi ricordi velati che appartengono alla sua infanzia ma che possono rivivere nel momento in cui si incontra la persona giusta giusta per modo di dire però e nel momento in cui si realizza questo incontro la vittima ha la sensazione di conoscere quella persona da sempre pertanto diventa arrendevole è disposta a tutto la vittima si concede nelle mani dell'altro perché la sua immagine fantasmatica è stata risvegliata e non c'è situazione che possa risvegliare le nostre energie psichiche incanalandole in un'unica direzione quanto vivere il risveglio del nostro fantasma perciò la vittima non può fare a meno di cadere nella trappola del manipolatore provando dei sentimenti irresistibili a questo punto e qui vi faccio anche gli auguri di fine anno io direi che dare ascolto al nostro fantasma interno che ci sprona a consegnarci nelle mani di un altro può rivelarsi la scelta più vivificante più fertile della nostra vita a patto però di non essere una vittima passiva a patto di renderci conto di ciò che sta succedendo è l'elemento che fa sbocciare la consapevolezza è proprio all'entrare in relazione con i nostri fantasmi questo vi auguro quando ci sentiamo infelici e demotivati è probabile che non stiamo dando il giusto spazio ai nostri fantasmi noi gli stiamo dando modo di esprimersi i fantasmi sono ciò che ci rendono unici speciali particolari individui quindi se li contattiamo se contattiamo i nostri fantasmi e li esprimiamo la loro energia ci farà guarire ci donerà la felicità buon anno infine vi informo che se volete richiedermi una consulenza dovete mandare un messaggio scritto su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo come funziona la consulenza inoltre se volete leggere i miei libri li potete trovare su amazon buona giornata